In risalita ai casi di coronavirus nell'area pratese, nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 59, che portano il totale a 11.554, un incremento che va di pari passo con quello registrato in Toscana, dove i nuovi contagi, emersi dall'analisi di poco più di 16.500 tamponi tra molecolari e rapidi, sono 760, con un indice di positività, escludendo quelli di controllo del 9,6%. Su scala regionale il bilancio dei casi sale a 136.539, mentre quello dei decessi con i 22 delle ultime 24 ore sale a 4.269. Le ultime vittime sono 13 donne e 9 uomini con un'età media di 85 anni. Tra le vittime è anche un pratese, un uomo di 84 anni, residente a Prato, morto all'ospedale Santo Stefano. Sono questi alcuni dei numeri contenuti nel bollettino diffuso oggi dalla regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. Una buona notizia arriva dai ricoveri, che hanno registrato un calo. Nei reparti Covid degli ospedali toscani ci sono attualmente 754 pazienti, 18 in meno di ieri e di questi sono 112, tre in più quelli in terapia intensiva. Continua la campagna di vaccinazione. Alle 12 di oggi si sono contate altre 4.241 somministrazioni per un complessivo di 134.698. La Toscana è tredicesima in Italia per numerosità di casi ogni 100.000 abitanti, con Prato, che guida la graduatoria regionale, undicesima per tasso di mortalità e ottava per percentuale di dosi di vaccino somministrate su quelle consegnate.